Troppi accompagnatori senza Green Pass, la SST La Riana torna a ribadire con forza le regole per l'accesso in ospedale. A due settimane dall'entrata in vigore del certificato verde che ha permesso di consentire l'ingresso in ospedale ad accompagnatori e visitatori. Tutti coloro che accompagnano un familiare o un amico sono tenuti ad esibire il proprio Green Pass al personale e all'ingresso. Tale indicazione vale per tutti, anche per coloro, al fianco di un paziente disabile, un paziente non autosufficiente, un minore e una donna in gravidanza. Gli accompagnatori muniti della certificazione possono accedere fino alle sale d'attesa degli ambulatori. L'accesso alla sala visita è consentito invece, sempre con Green Pass, soltanto agli accompagnatori di pazienti disabili, non autosufficienti, minori e donne in gravidanza. Purtroppo capita ancora che alcuni accompagnatori si presentino senza Green Pass e pretendano di entrare, spiega Matteo Soccio, direttore sanitario della SS Tilariana. La priorità è la sicurezza e le indicazioni ministeriali e regionali servono appunto per contenere i rischi e per questo torniamo a chiedere l'aiuto e la collaborazione di tutti. Non dimentichiamo, aggiunge, che l'ospedale è un luogo che ospita pazienti fragili che vanno massimamente tutelati. Ai cittadini che accedono in ospedale per una visita ambulatoriale non è richiesto il Green Pass, è richiesto come detto all'accompagnatore, ma viene eseguita una verifica degli eventuali sintomi e contatti avuti con persone positive al Covid. È parificata ad una visita ambulatoriale anche la vaccinazione, anti-Covid, anti-influenzale o per l'infanzia e l'adolescenza, e pertanto l'accompagnatore di chi deve sottoporsi alla vaccinazione dovrà essere munito di certificato. Con il documento verde è consentito permanere nelle sale d'attesa del pronto soccorso. Infine le visite in reparto sono consentite nei reparti no-Covid con Green Pass e previa presentazione al personale dell'autodichiarazione di assenza sintomi. Sono state previste delle fasce orarie d'ingresso diverse in base all'iniziale del cognome dei pazienti. Per quanto riguarda l'ostetricia, sì alle visite con Green Pass soltanto ai papà.